Quinta corsa premio Santa Sabina, una prova per tre anni, non vincitori, 10.000 euro in carriera, 1 Excalibur Febbi, Guido Carpentieri, 3 Wonderland Elvin, Roberto Vecchione, 4 Erice Mail, Emanuele Pettinari, 5 Entbred, Mario Minopoli Junior, 6 Enia Delle Badie, Antonio Di Nardo, 7 Eucalipto Pelle, Antonio Esposito, seconda fila 8 Edit Stecca, Dario Battistini, 9 Euraca Go, Cristian Fracassa, 10 Eureka Spav, Romolo Ossani. 150 al lancio, problemi per il numero 10. Allo stacco è veloce Entbred che si staglia al comando nei confronti di Wonderland Elvin, mentre per linee esterne prova ad avanzare Eucalipto Pelle che viene pedinato dal numero 6 di Enia Delle Badie. Due parigli a comandare le operazioni con Eucalipto che va su Entbred a chiedere strada, la ottiene 400 in 29 con Eucalipto Pelle che in progressione riesce a scendere la corda davanti a Entbred. Rimane così aria in faccia a Enia Delle Badie e i 600 se ne vanno via nell'ordine del 44 e 6. La schiena di Enia Delle Badie è presa da Eureka Spav che va a fare la seconda pariglia sulla piegata di destra mentre in terza c'è Excalibur Febi. 800 in un minuto e cinque decimi per Eucalipto Pelle. L'errore per Wonderland Elvin quando siamo adesso lungo la dritta di fronte con Eucalipto che completa il chilometro in 1.15.2 sotto però il pungolo di Enia Delle Badie che attacca a fondo e tende a sopravvanzare l'avversario all'imbocco della piegata conclusiva. Si fa vedere anche Entbred. Più indietro c'è Eureka Spav con Enia Delle Badie che è passata nei confronti di Entbred che comunque rimane lì in schiena. Ci proverà in retta d'arrivo ma tenta lo stacco Enia Delle Badie che va in progressione su Entbred mentre Eureka Spav cerca il sopranzario Eucalipto Pelle per il terzo posto. Nel finale si distende Enia Delle Badie viene a concludere su Enia Spav ovviamente di spunto è Excalibur Febi a conquistare la terza moneta quindi vittoria per Enia Delle Badie nei confronti di Entbred e Excalibur Febi 6.5.1 l'ordine di arrivo provvisorio io 1.57.9 sul cronometro siamo nell'ordine all'1.13.4 per Enia Delle Badie e Antonio Di Nardo alla guida Gennaro Casillo al training colori della scuderia Delle Badie per questa figlia di Maragia e sarà Delle Badie prestazione davvero molto molto convincente. Quindi 6.5.1 l'ordine di arrivo ed è tutto per il momento. Grazie. 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 Grazie.